allora stiamo facendo la shakshuka insieme a zia dina zia dina ma cosa è? shakshuka buona con un po di cipolla tagliuzzata nell'olio d'oliva appena un goccio di olio d'oliva è poco così suia poco poco si si molto dima non lo d'oliva a mumlaz si fa a mumlaz molto per via dell'alzheimer ah si è consigliato contro l'alzheimer si bene e fa a filociuma guarda il filociuma che mi metto un cucchiaio di filociuma va bene va bene eccolo qua il filociuma e il motti e poi il pomodoro un cucchiaio di filociuma e mezzo baratto di pomodoro si fa cucinare un bel po' anche un po' di limone nella shakshuka ci mette zia dina un po' di cruella ah ecco ecco un cucchiaino piccolo di caroia chimel caraway carvi chimel signori un po' di sale pochissimo perché già nel perferuciuma di zia dina c'è già un po' di sale mettiamo un quartino di bicchiere di acqua per aggiungere un po' di tempo alla cottura appena si ritira poco poco questa è la shakshuka che è fatta con la cipolla a differenza di tutte le altre cipolla il filociuma che faremmo cosa faremmo ecco e iniziamo a mettere le uova prima nel bicchiere per controllare che non hanno nessun difetto e poi in pentola sul sugo la copri adesso? la copri così si cucina ecco l'abbiamo coperto per farlo cucinare e poi quando è pronto si mangia eccola è pronta si può servire a tavola ecco 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 ecco